Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È stata la Fermana, la regina dell'ultima giornata di calcio a mercato in Serie C. I canarini infatti hanno ufficializzato addirittura sette nuovi acquisti, con Mr. Protti che dunque potrà sorridere per una rosa assolutamente rafforzata. La ciliegina sulla torta è rappresentata dall'arrivo a titolo definitivo dal suttiro dell'attaccante Manuel Fischnaller, classe 91, reduce da due stagioni e mezza in Alto Adige. Vanta 341 presenze in Serie C e 61 in Serie B, impreziosite da 87 reti e 32 assist. Ha indossato anche le maglie di Catanzaro, Alessandria e Regina, accordo fino al 30 giugno 2024. In attacco arriva anche Cristian Bunino dalla Provercelli, ma di infiammare la piazza è anche il nome del centrocampista Gianvito Misuraca. Il palermitano, classe 90, arriva in prestito dal Pordenone. Per il neo giallo-blu, 128 presenze, 7 gol e 10 assist in Serie B. Riguardo agli altri quattro nuovi arrivi, si tratta di un altro attaccante, Antonio Ronci, classe 2002, che nell'ultimo torneo ha collezionato 5 apparizioni al Seregno. Poi l'esterno avanzato Giovanni Nannelli, classe 2000, nella scorsa stagione al Monte Varchi. Per lui anche 44 presenze in Serie C e 24 in D con la Lucchese. Preso anche il portiere classe 2003 Nicolò Vaccarezza e un altro portiere che domenica sarà già titolare, ovvero Nicola Borghetto, classe 99, prelevato dal Verona ma reduce da una stagione in prestito al Monterosi. Sempre in Serie C si è concluso il mercato anche di Re Canatese e Vispesaro. I neopromossi leopardiani hanno prelevato dalla Lazio, con la formula del prestito, il centrocampista, classe 2002, Biagio Morrone, reduce da un anno al Monopoli e passato anche per il settore giovanile della Juventus. La Vis, nell'ultimo giorno di contrattazioni, si è regalata l'attaccante Alessandro Provazza, classe 2003, dalla Regina e reduce dalla parentesi al Lamezia Terme in Serie D. Sei gol e due assist in 27 presenze. Arriva alla Vispesaro anche il portiere Andrea Nicoli, classe 2001, dal Ponte d'Era. Il primo arriva in prestito, l'altro a titolo definitivo. Nessun movimento, invece, per l'Ancona.